bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti intanto voglio ringraziarvi perché ogni giorno mi mettete un sacco di pollicioni in su ai video grazie ragazzi grazie mille anche per i vostri commenti e nel video di oggi parleremo di alcune notizie relative alla season quindi vi farò un po di chiarezza su quello che sta per succedere abbiamo delle traduzioni di alcune di alcuni file audio che fanno parte di una possibile nuova organizzazione vi parlo anche di quale livello dover raggiungere in che modo ma anche di una grande grandissima collaborazione che sta per avvenire con fortnite anzi forse due prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e non poteva che essere una delucidazione su quale livello dobbiamo raggiungere se vogliamo tutti gli outfit tutti gli stili degli outfit ragazzi come vedete le varie skin del pass battaglia come in realtà è già successo nella precedente season hanno delle varianti quindi la pelle si colora come lo è stato nella forma olografica per i marvel 110 120 130 140 e 150 per la prima fase si va invece al 160 170 180 190 e 200 per la fase dorata la copertura gold per tutte le skin va da sé che poi 205 10 15 20 e 25 per ottenere invece la colorazione boh perlata fucsia perlato non lo so non so bene quale sia la cosa la cosa che ci interessa è che il livello 225 questa volta è il massimo da raggiungere per ottenere appunto l'ultimo outfit quindi ragazzi datevi da fare le sfide ci sono mi auguro che ne arriveranno tante nel corso della season raggiungiamo il livello 225 andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva finalmente già ve lo avevo anticipato la conferma del winter royale direttamente dalla pagina twitter ufficiale di fortnite competitive winter royale 2020 duos tournament is coming december 2022 quindi si gioca in duo ve lo avevo già anticipato si giocherà nel weekend dal 20 al 22 trova un partner preparati per questa tre giorni di azione con un formato di punteggio particolare e 5 milioni di montepremi ogni giorno porca la miseria ragazzi 5 milioni di montepremi ogni giorno sono davvero tantissimi ovviamente appena ci saranno delle altre informazioni sicuramente ve le dirò ma troverete tutto nella sezione competi dentro il nostro fortnite quindi trovate un partner e let's go andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva anche una bellissima mappa con tutte le location dei personaggi dei bottazzi no in poche parole io li chiamo png personaggi non non ricordo da dove mi venisse fuori questo termine ma mi sa che ci sta molto bene quindi potete fare un salto a trovarli tutti perché c'è anche comunque quella scheda nella nelle opzioni nel menu che appunto vi fa vedere tutti quelli che vi mancano e tutti quelli che avete trovato vi ricordo che ognuno vi fa fare delle quest appunto che o vi danno punti esperienza o vi danno dei gold che poi sapete benissimo vi servono per potenziare le armi quindi una bellissima mappa salvatevela che potrebbe tornarvi utile siamo già andati non chiedetemi il perché siamo già a questo argomento doveva esserci un'altra immagine prima ma quello di cui vi parlavo prima la possibilità che ci sia una nuova organizzazione che sia in creazione o che è già stata creata e che appunto comprenderebbe quel gruppo di scagnozzi di sicari che ogni tanto appaiono in mappa li avete presente no quando scende quella specie di scatola di metallo che si apre e cominciano a spararvi per farvi diventare tipo groviera la cosa che ci interessa tanto però questi sono delle dei dialoghi che abbiamo recuperato dalle trasmissioni che ancora non si è capito bene da dove arrivassero si intende ovviamente la voce quella fuori campo che abbiamo sentito anche quando è finito l'evento ci interessava leggere la terza riga perché dice keep it quiet but i don't think the midas that return of the same midas quindi ragazzi molto probabilmente vedremo forse più avanti forse alla fine di questa season nuovamente un ritorno di mida che però come dice questa voce non sembrerebbe essere lo stesso mida potrebbe essere ovviamente ancora un collegamento con lo zero point quindi con la realtà e il punto zero molto molto interessante questa cosa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché molto probabilmente arriverà un'altra skin che farà parte proprio del set mida o forse è proprio lei la skin che viene menzionata nella frase che vi ho appena letto quindi vi ricordo che acquistando l'abbonamento della fortnite crew questo mese ottenete la skin galaxia che poi si chiama in un altro modo comunque avete capito ma hanno trovato nei file di gioco questa bellissima immagine che io penso sia una schermata di caricamento ma che va a riprendere la parte femminile di midas quindi pensiamo che penso che ovviamente potremmo vederla appunto magari come una skin esclusiva del fortnite crew pass magari il mese prossimo tanta tanta roba andiamo avanti a parlare del grande argomento di oggi invece perché sembrerebbe che ci siano delle informazioni che sono state tralasciate che sono un po' uscite diciamo dal team di epic games che confermerebbero una collaborazione di fortnite con halo ragazzi uno dei videogiochi storici diciamo perché halo ha veramente tantissimi anni e la conferma arriva anche da queste immagini che non fanno altro appunto che affermare quello che vi sto dicendo ve le faccio vedere una a una la prima è la skin e la skin è proprio il personaggio di halo la seconda io credo che sia un emote in realtà questa dove si va in giro con il piccolo quad questo dovrebbe essere il deltaplano che è appunto l'aeroplano la navicella chiamatela un po' come come vi pare e c'era anche nell'immagine che vi ho fatto vedere il piccone smash hammer mi sembra che si chiami dovrebbe arrivare una ltm anche dedicata quindi una bella notizia per tutti i fan della saga di halo potremmo vedere qualcosa che farà parte del nostro fortnite ragazzi io per oggi con le news mi fermo qua ho altri argomenti ma non voglio darvi troppa roba che poi non capiamo più niente ve ne parlerò domani non vi preoccupate vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando raga il like schiacciate quel pollicione lì mettetelo in su e se volete lasciate un commentino per mandare questo video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao